E' di Silon, quindi rimessa laterale effettuata da Little Service Pesaro Burruto Bucata per Jefferson, controllo, non perfetto Poi Burruto arriva in aria E ottiene il calcio d'angolo Il massimo che poteva fare in questa circostanza Attenzione Cuzzolino, spara! Ed è un golasso quello di Leandro Cuzzolino Stop e missile sotto l'incrocio dei pali What a goal per Leandro Cuzzolino Che lo indirizza verso la sua panchina L'urlo liberatorio per lui, per tutta Pesaro Vamo, vamo, urla Cuzzolino ancora in segno di carica anche verso la tribuna Il mancino magico di Leandro Cuzzolino